Esserci sempre è il motto della Polizia di Stato. Un esserci sempre che dura da 170 anni. Anniversario a Cifratonda che oggi, nel Salone Metaorense della Prefettura di Pesaro, è stato aperto e chiuso dall'Inno d'Italia e dall'Inno la Gioia Europea suonati dagli alunni del Liceo Musicale Marconi all'interno di celebrazioni tenutesi alla presenza di delegazioni di tutte le forze di Polizia Territoriali. 170 anni di sfide continuamente rinnovate a presidio del territorio come lo stravolgimento di un ultimo biegno sul quale si è particolarmente soffermata l'enfasi del questore. Gli ultimi due anni, come ho già detto in occasione del mio discorso, sono stati due anni difficilissimi. Difficilissimi perché abbiamo dovuto affrontare circostanze, situazioni impensabili, quindi abbiamo dovuto adeguarci alle nuove esigenze collettive per garantire appunto la sicurezza di tutti i cittadini. Abbiamo svolto lavori, io ricordo la Pasqua di due anni fa, quando la famiglia era a Bologna, io stavo da solo qui, ho trascorso la giornata di Pasqua da solo, completamente da solo, girando per la città di Pesaro per verificare insieme al nostro personale, carabinieri, polizia, il controllo del lockdown generalizzato che c'è stato in quel periodo. Quel lavoro sicuramente ci ha ulteriormente formato, formato perché abbiamo svolto un'attività diversa dal solito. Questa realtà è molto, come ho detto, è una realtà tranquilla, serena. La cittadinanza ha collaborato moltissimo, è una provincia, più che una città è una provincia laboriosa, educata e anche silenziosa. Un territorio che tra tre mesi il questore lascerà annunciando a sorpresa il suo congedo dal corpo di polizia. I limiti d'età, i dirigenti superiori, c'è i limiti d'età dei 63 anni, io li compio a giugno e quindi automaticamente in mezzo successivo vengo collocato, come si dice in congedo, illimitato. Mi dispiace, mi dispiace perché dopo tanti anni di servizio e dopo tanti anni sono dedicati quotidianamente al prossimo. Per me io ritengo che la scelta di fare il poliziotto sia una missione e quindi si termina questa missione e c'è un'interruzione, ecco, c'è un'interruzione che spero di affrontare il miglior modo possibile. Tanti i riconoscimenti tributati alla presenza del prefetto Tommaso Ricciardi nei confronti del personale particolarmente distintosi per operazioni di polizia giudiziaria e soccorso pubblico durante gli ultimi anni. Dalla promozione per meriti straordinari al vice ispettore Massimo Regoli, agli encomi per Francesco Antonio Greco, Gianluca Di Quilmi e Simone Camilli, fino alle lodi assegnate a Paolo Bucarini, Marco Grinieri De Ioanni, Eleonora Cognini, Luigi Bonsignore, Tiziano Gaggiottini, Giuseppe Scarpa, Francesco Marini, Alessandro Bertolini, Luigi Cerroni e Eugenio Nardelli.